Ciao ragazzi, benvenuti con questo vlog, è solo un saggio ragazzi, siamo qua per fare una cosa un pochettino diversa, regà, questa challenge Si tratta tipo di usare dei sensi che non abbiamo, ok? Perché l'ho vista tipo da quelli che fa un box, capito? Scusami, come fai a usare dei sensi se non ce li hai? Ce li hai? E li devi sviluppare Allora, che cosa abbiamo qua? Ma come vedete abbiamo un gavettone che ovviamente tipo ci girerà attorno alla testa e fin qua ci sta Ovviamente noi saremo vendati e qui regà ho anche dei cappellini pieni di puntine, non so se si riescono a vedere Ovviamente dai, spero proprio di sì Eccole qua, pieni di puntine sia di qua che di qua Ovviamente noi ci mettiamo il cappellino, ci vendiamo e da lì facciamo girare e bisogna assolutamente sfidare Ah scusami, ti rievo qui Ricordiamoci una cosa, che chi viene bagnato si dovrà bere una cosa schifosa, adesso ve la farò vedere Ecco che cosa ci berremo Qua dentro c'è acqua, ketchup e peperoncino E in tutto ciò mi ha aiutato il mio amico Antonio Vieni qua, se fascia vedere, eccolo qui raga Mi ha aiutato ad alistire il tutto, a fare pure i cappellini Perciò ovviamente lo ringraziamo Ovviamente il peperoncino piccante perché ho giunto le calapresse Quindi il peperoncino piccante Perciò raga, adesso iniziamo Vieni a ti vedi Vieni a ti vedi Vieni a ti vedi Eh no, perché io devo lanciare la prima e poi ti giuro che mi vendo Ho giurato Vai, ma non lo vado a tirare addosso No, no, no Vai Allora sei pronto? Sì Via Sì 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 Ma non è giusto Cosa non è giusto? Non è giusto, me l'hai tirato addosso sai bene Ma l'hai tirato addosso Io l'ho lanciata così Nooo Eh deve girare poi, guarda che l'ho sentita che mi ha toccato sulla siena Sei vincita Sì ma aspetta prima devi fare la penitenza Bevi tutto e non sorso, dai veloce 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 Dai dai bevi Giu giù 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 Vai giù Vai giù No 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 E' andato via ragazzi Eccolo è lì Ancora Non è finito ancora, vieni Oh ma abbiamo appena iniziato si mette Ma abbiamo appena iniziato Ma abbiamo appena iniziato Vieni, secondo round, secondo round Ma com'è? Non è me E' di potente E' ancora te Ragà, siamo appena all'inizio Perciò adesso passiamo al secondo round Allora ragà, visto che io ho vinto Cioè io sono a posto, capito? Ovviamente dopo facciamo la classifica E tutti i vincitori andranno contro il me Poi alla fine... Cosa devo fare? Mettere l'acqua negli occhi? Si O non barazzi O intanto adesso La mascherina già me la devo mettere in bocca Adesso anche negli occhi Dai C'è lui C'è un po' d'ansia? Facciamo posto No 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 Ok, sugli occhi Ok, ci siamo Vai 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 Ok 3 Ma dove la ti? Vai 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 3 2 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 5 5 6 6 6 6 7 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 12 12 13 13 15 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 19 20 20 19 20 20 20 20 21 22 22 21 22 23 25 24 25 25 ma il capo non è esploso va davvero? ovviamente faremo bere accatto ma io me lo sentivo davvero oh bevi oh mandaci tutto ecco qua un bel sorcino in coia bevi dai facci vedere allora oh tutto vittoria 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 oh 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 assurdo è vero raga ultimo round allora adesso ci sono ovviamente gli ultimi tre che sono io adam e a e antonio allora mi son detto visto facciamolo fare a loro due e io vado direttamente in finale cosa vuol dire cosa vuol dire cosa vuol dire perché no scusa anche te sei un vincitore il terzo fate voi due io sono stato il primo che ha vinto ma ciò siamo a posto così voi siete ah sono le capole le classiche capole oh non mi interessa oh il video è mio il video è mio mamma mia va bene 1 2 3 100 goffi oddio oddio che è successo mia no non ci credo non ci credo no ma ritirà ma ritirà ritira non so vai aggiantino come una cosa ha fatto tutta la parola vai 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 è partito no 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 edia non è esplode ma è TikTok non è esplode AHHHHH non ci credo non ci credo non ci credo non ci credo fifty betty 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 oh oh oooooohh la mia scena vai 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 lo è 0 ah attentere qualcosa lo sta vedete la tua so sblitto fa schifar wow oh calmati buono Fravi siete un c***o di drago Ti fa piacere Ma che oh Oh no Il primo che parla No c'è la macchina lì No c'è la macchina No 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 L'iPhone Porca di quella p***a L'iPhone no Oh!